Al piano terra, una ricca colazione a buffet, nell'accogliente sala ad essa dedicata, sarà il modo ideale per iniziare al meglio la giornata. Le proposte gastronomiche, scelte e curate personalmente con grande attenzione e competenza dalla padrona di casa, signora Rita, prevedono costantemente prodotti tipici del territorio selezionati ed esclusive prelibatezze dolci e salate.